Salve, sono Giorno De Angelis, questa sera presenteremo il cortometraggio Terracina Mon Amore. Grazie a tutti. 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 Chi mi ha rimboccato le coperte? Dai, andiamo a casa. I due ci stanno aspettando. No, no, no. Compa, dobbiamo andare al porto. Al porto? A fare che? compa, compa, no. Compa, vi合na al porto, ho bisogno di andarci. Ci tengo un sacco, ci tengo una cosa importante. e qui dove io comincio tutto tutto questo? tutto, tutto qui dove ho deciso di andarmene questa età non era abbastanza per me dove ho deciso che anche lei non era abbastanza per me qua dimmi la verità perché sei tornata? voglio incontrarla Fè voglio vederla di nuovo che stai dicendo? sei uscito quello di destra io ho bisogno di ricordarmi cosa significa essere innamorato ho bisogno di emozioni forti Federico se no non so più di cosa scrivere insomma Romeo com'è andata? è andata una merda l'ho lasciata l'ho lasciata carina e coccolosa e l'ho trovata una burina tutto il tempo a parlare di uomini e donne e di Barbara U come? questo faccio in abilità che ti ritrovi? eh Federico mentre lei mi parlava di uomini e donne io ho capito una cosa a me non mancava il primo bacio a me non mancava lei a me mancavano gli scalini della chiesa i vicoli del centro il porto cazzo mi mancava questa schifosissima città la chiesa Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.